Ho detto, ma Carlo, ma com'è possibile? Poi mi spiegava piano piano finché non accompagnavo a scuola. Ogni giorno mi diceva la stessa cosa. Non c'è nulla più grande di questo sacramento. Il miracolo viene richiesto perché si dice che è la firma di Dio. Devono vedere cosa è successo, il racconto, tutti i miracoli. Poi arriva sul Signore veramente. Carlo aveva capito questo grande segreto. Cercava di comunicarlo agli altri, cercava di farlo capire alle persone perché ovviamente cos'è l'amore più grande che uno può avere per gli altri? Volere la loro salvezza eterna. Aveva proprio le idee chiare su questo. Era come se io rivedessi il Luisa Francesco. Questo è evidente. La scienza ci ha dato la possibilità di dirlo con certezza.